Beh, io oggi, allora chiediamo un po' Giada, io oggi ho cercato di imparare qualcosa, ma potevo fare meglio, vero? Sei stato bravo! Eh, sei stato bravo! E parlano loro, io ho fatto abbastanza... Vabbè, fateci a vedere voi una polca, va? Polca! Vabbè, fateci a vedere voi una polca. Un grosso applauso a questi ragazzi! Grazie! Grazie a tutti. Grazie per la porca. Vi rivediamo dopo, giusto? Abbiamo ancora un ballo. Molto bene. Allora, cambiamo genere, invitiamo le ballerine.